Venerdì 13 aprile Favenzia Sales ha presentato il fine lavori di Palazzo Don Bosco presso il complesso ex Salesiani, una struttura importante per il futuro di Faenza. Questa è un'altra tappa di un importante processo di recupero di immobili in centro storico, un processo che è iniziato alla fine del primo decennio del 2000 e che tappa per tappa vede restituire alla comunità questo importante complesso degli ex Salesiani. Stiamo parlando di qualcosa come 14.000 metri quadrati complessivamente fra tutti gli ambienti che passo dopo passo tornano a vivere con quella finalità originaria, l'educazione, la formazione, il servizio alla persona e quindi siamo pienamente nella prospettiva che coloro che hanno voluto costituire nel 2004-2005 la società proprietaria di questo immobile hanno voluto imprimere a questo investimento. Dobbiamo dire grazie al presidente Fabri e a tutto il CDA di Favenzia Sales che in pochi mesi rispettando i tempi con sobrietà di budget stanno pian piano restituendo alla città uno straordinario complesso nel pieno centro urbano di Faenza e lo stanno restituendo a quelle che sono da sempre le funzioni a cui l'opera salesiana era dedicata, quindi cultura, formazione ed educazione, stare insieme, aggregazione. Luca Cavallari, quali lavori sono stati fatti in questa trans? Sono stati ristrutturati circa 3.000 metri quadri di questo complesso, sono stati realizzati degli uffici per i servizi sociali e delle aule universitarie, questo grazie alla collaborazione di tutte le aziende che sono soprattutto aziende locali che vedete appunto nel pannello perché sono troppe per essere elencate tutte e grazie ai progettisti, soprattutto lo studio Magaz che ha seguito i lavori, la direzione lavori, l'ingegner Giorgio Lega, Blu Cubo come appunto progettazione degli impianti e quindi dobbiamo ringraziare tutte queste aziende locali e del territorio che ci hanno permesso di raggiungere i risultati evoluti nei tempi evoluti rispettando il budget, quindi un grazie a tutti veramente. Presidente, quanto è importante questo passaggio per voi e per gli ex salesiani? Beh sicuramente è un passaggio fondamentale e veramente importante in quanto comunque è una tappa veramente cospicua del progetto di recupero di tutto il complesso che abbiamo avviato, il progetto presentato nel 2015 di cui questa parte quasi 3.000 metri quadri rappresenta una delle parti più consistenti sia in termini di budget appunto che di impatto sull'intero complesso. Questa è solo una parte però perché abbiamo ancora molta strada da fare, era sicuramente quella con la salita più ripida di cui ai prossimi mesi partiranno almeno altri due cantieri, entro fine anno pensiamo anche il terzo, quindi confermiamo di voler mantenere l'obiettivo di ristrutturare il tutto entro la fine del 2020 e la fine del nostro mandato per poi consegnare al prossimo consiglio di amministrazione il tutto ristrutturato per poi un progetto per arricchire maggiormente i contenuti. Una struttura sempre più multifunzionale quindi? Diciamo che in questa fase la parte ristrutturata andrà a rafforzare i servizi che ci sono già come quelli universitari dando comunque nuove opportunità e nuovi servizi appunto agli studenti con la possibilità anche di aggiungere nuovi master, nuove attività. E poi verrà invece una funzione nuova che è quella degli uffici pubblici, dei servizi sociali che sicuramente contribuirà ad arricchire ancora la vitalità e il flusso delle persone all'interno del centro storico.